guardate che bello ragazzi ha riaperto questo posto meraviglioso è pieno di gente però purtroppo dice che non arriva più nessuno questo è il posto più bello che c'è un cento a riaperto bellissimo il capolavoro e oggi si sta pure bene un bel caldo guardate cosa fai? non voglio fare un video per far vedere che bello che sono ma perché dici che è francesco? guardate quanta città c'è guardate in due giorni a noi è aperto qua oasis dunas a due passi dal centro spettacolo guardate vedi che hanno riaperto TODOS pizzeria, ristorante, pub, tutto però adesso vediamo che succede se continua o se blocca tutto di nuovo chi lo sa chi lo può sapere questo? non si può sapere questo quello che succede però aperto e non aperto vediamo che passerà almeno si diverte la gente con tutta malattia di merda che c'è nel mondo vediamo che finisce tutta palai sto ok 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 Grazie a tutti.